Aga, qui potrebbe attaccare Edwards, Keeley potrebbe attaccare Bayliss, niente da fare, posizioni invariate, no, secondo Bayliss, Bayliss staccato a vincente e passa a secondo, uscita d'agrobazia e sono appaiati con Edwards, Edwards si toccano quasi, deve chiudere il gas Bayliss, il gioco si fa duro, moto, drum, agip, curve, primo, Colin Edwards, Staccata vincente di Edwards, Aga deve chiudere il gas, alla Sachs, Colin Edwards, Aga, alla Sachs, si toccano quasi, chiude il gas, passa all'interno, Noriukiaga, incredibile, sorpasso e conquista dopo la Sachs, la prima posizione è una vittoria fantastica, Noriukiaga, un sorpasso mai visto ad Hockenheim, nei confronti della velocissima Honda VTR, regala un'emozione incredibile a tutto il pubblico.